Ma come era avvenuto contro il Como non è riuscito a dare sbocchi positivi alle sue complesse manovre. L'Udinese in una gara che aveva poco da dire per la classifica ma che è stata tutta... A proposito c'è anche Magrin e con il suo calcio di punizione la bella parata di Abba. ...a ripetizione nell'area avversaria scoccano... ...anche di testa come in questa occasione ma il portiere agguanta tutto. Il portiere Udinese si esprime al meglio poco dopo su punizioni di... ...inventare anche quando gli altri lo vorrebbero esaurito e con un Francesco Romano... ...più concreti passa al pratico. C'è poi il fattaccio, il milanista Udinese. Prima al ventiquattresimo e Agostini è impegnato. Vi dirò che la Frentina ha giocato circa 42 minuti in questo... ...del secondo tempo. C'è tutto un repertorio di attacco e pronto garella di piede. E qui... ...i rossoneri nel primo tempo hanno impressionato la determinazione e quasi la voglia... ...e l'entusiasmo di giocare e far bene. Partite addirittura superiore a quella record dell'asso... Marchesi è stato costretto a far ripiegare i suoi ancora più indietro. I mesi sono stati superati, il portiere Abate ha saputo rimediare alla... ...hanno trovato sulla loro strada un Abate puntuale e attento. L'Udinese ha brillato a lungo per determinazione e ritmo. E quando gli ospiti si sono fatti... ...ha bene la mira ma riesce a segnare solo dopo il generoso e sfortunatamente... ...contro l'Udinese targato Marchesi. Il navio è un attimino così rischioso. Infine Troglio. Venire qua a perdere. Per Abate, momenti di gloria. Sosa e Grenata giocheranno solo un discreto primo tempo mentre nella ripresa crolleranno. Qui Abate, portiere che in Naftalina ci sta bene ma in campo ci sta pure. Vorrebbe il gol in questa circostanza. E a questo punto comincia lo scioglio. ...dando il tedesco Ridle. Tra le due squadre chi sta meglio è la Lazio che detta legge da lì. ...unica scorsa con la Lazio. E alla Lazio i rossoneri ne avevano fatti quattro. Abilissimo comunque. Abziro non ha favorito la loro potenziale velocità. E Abate è stato spesso determinato. Una reggiana per niente inferiore. Quanto ad aggressività è molto più accorta. Nessuno si ritiene indispensabile. Questa. Maggior possesso di palla da parte dei Sardi e ospiti pericolosi. Pallo colto da Anglomar. Poi proprio nel tempo di recupero Abilipa la tenta di beffare Abadgi. Il Cagliari porta a casa un punto prezzese. E con statuto impegna seriamente Abate. Attaccare, rischiare per vincere. Un punto servirebbe a nulla. Il gol a Chiesa con questa parata. Undici leoni chiedono i tifosi della curva Nord. Anche di Abate, portiere che due anni di panchina non hanno arrugginito. Gentina, che sull'isola vive una domenica assai anonima. Col Milan che le scappa e il Parma che la riagguanta al secondo. Tra splendidamente Mancini la respinta di Abate. Arrivata di rimessa con il portiere Sereni che fa correre dei blu. Il tempo che si conclude con una punizione sempre tenibile di Mikhailovich. Grazie a tutti.